Benvenuti nel mondo degli orologi Wenger. Wenger è un marchio svizzero di orologi che ha conquistato il mercato grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla qualità dei materiali utilizzati e alla capacità di unire design classico e moderno in un unico prodotto. Fondata nel 1893, l'azienda si è specializzata nella produzione di orologi e coltelli multiuso, diventando una vera e propria icona della precisione svizzera. Gli orologi Wenger sono pensati per resistere alle condizioni più estreme, grazie all'uso di materiali di altissima qualità come l'acciaio inossidabile, il vetro zaffiro antigraffio e la guarnizione impermeabile. L'attenzione ai dettagli è ciò che contraddistingue Wenger, che unisce la tradizione svizzera all'innovazione tecnologica per creare prodotti unici nel loro genere. Molti modelli di orologi Wenger includono funzioni aggiuntive come la cronografia, l'allarme, la data e il display luminoso per una maggiore funzionalità. I design degli orologi Wenger sono sia classici che moderni, adattandosi alle esigenze di ogni cliente. Dagli orologi sportivi a quelli eleganti, la gamma di colori e stili è ampia e variegata. Inoltre, gli orologi Wenger sono spesso associati a un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto ad altri marchi svizzeri di orologi. La combinazione di materiali di qualità, funzionalità e design innovativo rendono gli orologi Wenger unici e di grande valore per gli appassionati di orologi.